Buon pomeriggio a tutti dalla redazione di Rete Versiglia, edizione flash del nostro telegiornale. In primo piano la pagina che riguarda i lavori pubblici, ci sono interventi importanti a Pietrasanta previsti per il 2011, sentiamo quali nel primo servizio firmato da Giulia Maggi. I bambini sono loro i soggetti che l'amministrazione comunale di Pietrasanta intende accontentare per primi nel 2011. La giunta comunale nella seduta del 21 dicembre ha infatti approvato una serie di progetti pensati dall'assessore ai lavori pubblici Rossano Forassiepi, che interessano principalmente i propri piccoli e i loro genitori. Un primo lavoro che partirebbe a breve è l'area verde attrezzato ed attività ludiche in Via della Rocca. L'area, destinata a divenire uno spazio per lo svolgimento di attività ricreative destinate ai bambini, consentirà inoltre di vedere nel cuore del centro storico uno spazio funzionante dedicato ai genitori e ai loro figli. L'importo complessivo dell'intervento è di 55.000 euro, che serviranno per la sistemazione della parte bassa dei campetti della Rocca, con l'allestimento di attrezzature come altalene, scivoli, palestrine, panchine e arredo urbano. Un altro importante intervento, previsto per il 2011, è il piano straordinario per la manutenzione degli edifici scolastici, da attuarsi con una forma moderna e innovativa per il comune. Gli interventi previsti riguarderanno le opere di natura edile, elettrica e idraulica, che si renderanno indispensabili per l'esecuzione di interventi richiesti nell'arco temporale del prossimo anno, per un importo complessivo previsto di 200.000 euro finanziati con oneri di urbanizzazione.